Venite con me, vi accompagno verso le ultime stanze della Pinacoteca Ambrosiana, dove Leonardo è il focus delle bellezze che vi mostrerò. La prima opera è Il Musico, che per anni fu attribuito a Luini, che è invece un'opera autografa di Leonardo, e grazie a questo errore evitò di essere trafugato da Napoleone. Ma la meraviglia sta per arrivare, il Codice Atlantico, forse l'opera più preziosa di Leonardo, dove le sue teorie, i suoi studi e le sue visioni sono lì a testimoniare la grandezza e la genialità di quest'uomo. L'emozione che si vive nel visionare i suoi disegni non è descrivibile in un reel, solo trovandosi ad occhi nudi sulle sue pagine si può respirare la grandezza della sua genialità. Tutta questa magnificenza la trovate tra le mura della Pinacoteca Ambrosiana.